Appuntamento quotidiano dedicato all'informazione. Bentrovati gentili amici. Apriamo con una notizia relativa al Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, che è arrivato oggi in Uruguay accompagnato da Don Luca Maisano e da Don Dino Monico. Il Vescovo con i due sacerdoti atteso dalla serie di tappe che caratterizzeranno la visita nel paese sudamericano dove la nostra diocesi ha una missione. I primi appuntamenti del intenso programma predisposto per questa visita riguardano una celebrazione della messa nella chiesa dedicata a Santa Catalina. Domani mattina invece a Cardona ci sarà un incontro con il Vescovo locale e il presbiterio diocesano. Passiamo ad un altro argomento. Nei primi dieci mesi di quest'anno sono 240 le donne ad essersi rivolte al centro antiviolenza del Ludigiano, quello di Lodi in via Paolo Gorini e quello di Sant'Angelo Lodigiano, una media di quasi quattro nuovi casi alla settimana. È un dato rilevante questo che è stato presentato oggi a Lodi e testimonia da un lato una crescente consapevolezza sulle opportunità messe a disposizione delle donne dal centro antiviolenza per fronteggiare la violenza stessa. Dall'altro il fatto e la conferma che questo è un problema ben presente nel nostro territorio. Nell'Udigiano negli ultimi dieci mesi 240 donne si sono rivolte al centro antiviolenza, una media di quattro nuovi casi alla settimana. Di queste donne 125 sono state assistite da un punto di vista psicologico, 72 da quello legale ed una quarantina stanno seguendo un percorso di counseling per l'inserimento del mondo del lavoro. 368 le ore destinate a un percorso di sostegno alla conciliazione. Sono questi dati in crescita rispetto al passato che confermano come anche nell'Udigiano il problema sia diffuso così come cresca da un lato anche la consapevolezza dei servizi messi a disposizione dal centro antiviolenza. Un dato altissimo rispetto al trend degli anni passati che si aggirava attorno al centinaio di donne. Di queste 240, 125 sono state prese in carico, cioè significa che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita della violenza che ha visto delle consulenze psicologiche, legali e un orientamento ai servizi territoriali deputati alla fuoriuscita della violenza tipo la questura, i servizi sociali eccetera. Questo significa che c'è una maggior consapevolezza della possibilità di avvalersi dei vostri servizi oppure che i dati oggettivi sono in crescita in termini di violenza. Secondo me c'è una maggior consapevolezza dei servizi presenti sul territorio del fatto che se non si denuncia e non si chiede aiuto e servizi uscire dalla violenza è difficilissimo, cioè se la donna pensa di poter farcela da sola sbaglia e si sta capendo questa cosa. Sicuramente è stata importantissima anche la campagna di comunicazione che col comune di Lodi si è portata avanti che ha diffuso capillarmente sul territorio l'esistenza del centro antiviolenza e di tutti i servizi offerti e questo sicuramente aiuta la donna ad avere un punto di riferimento chiaro a cui rivolgersi. Nel centro antiviolenza donna operano cinque psicologhe, tre avvocate e una decina di volontari per un servizio che viene reso disponibile cinque giorni alla settimana con la possibilità di reperibilità telefonica 24 ore su 24 al numero 331 34 95 221. Da parte dell'amministrazione comunale di Lodi la consapevolezza che il cammino intrapreso è quello giusto ma che la strada da percorrere è ancora lunga, molto lunga. Il fenomeno sta emergendo, è la punta di un iceberg sicuramente perché i dati come dicevi ci dicono questo è un lavoro che deve continuare, deve diventare strutturale. Non è un'emergenza ma è purtroppo un fenomeno costante come altri e quindi per tale va affrontato. Noi siamo qui oggi per provare a tirare le fila delle criticità ma anche delle scelte vincenti di quest'anno, una su tutti davvero il mettere in rete le esperienze che nel territorio già c'erano ed erano forti e per provare a dirci che cosa faremo nel 2016. Dico già da adesso che nel 2016 noi ci saremo ancora, ci saremo forti come quest'anno con la comunicazione adeguata che non sarà più scoprire un servizio ma un continuare a dire che c'è anche per chi arriva nel territorio da altre parti o per donne che ancora hanno bisogno di coraggio o di un motivo per arrivare a denunciare. Spesso questo motivo sono i figli. Noi notiamo che davvero nella maggior parte dei casi le madri che arrivano al centro antiviolenza hanno appunto dei figli e questa è un po' la molla che fa scattare la voglia di denunciare, di uscire dalla spirale. Oggi racconteremo dei casi positivi perché è giusto dire che l'impegno di un anno ha portato alla risoluzione delle vite delle persone. E domani per le 10.30 è convocato il presidio contro la violenza sulle donne Lascia un segno. È un'iniziativa questa organizzata dal centro antiviolenza alla metà di niente in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del comune di Lodi e ad una serie di associazioni lodigiane che si stanno impegnando per sviluppare azioni che favoriscono una piequa condizione di vita, lavoro, di relazione per le donne. Saranno presenti tra gli altri Simonetta Pozzoli ed Erika Bressani rispettivamente assessora all'istruzione e alle pari opportunità che nei giorni scorsi hanno inviato una nota alle istituzioni scolastiche al fine di trasmettere i contenuti della giornata di domani nelle classi degli istituti della città. Passiamo ad un altro argomento. 33.176 incidenti, 448 morti, oltre 45.000 feriti. Sono questi i dati che emergono dal rapporto ACI-ISTAT riferito all'anno 2014 e che è stato presentato dall'assessore alla sicurezza, protezione civile e immigrazione della regione Lombardia, Simona Bordonali. Il tutto durante la quinta giornata regionale della sicurezza stradale. La nostra provincia al secondo posto è prescritta da Cremona per la riduzione più consistente del numero di decessi lungo le strade per il periodo 2010-2014. Secondo i dati emersi dal rapporto ACI-ISTAT riferito al 2014, sono 33.176 gli incidenti stradali che si sono verificati sul territorio lombardo lo scorso anno. 448 le persone decedute, 45.755 quelle ferite. Rispetto al 2013, il numero degli incidenti stradali è sceso del 2,4%, quello dei feriti del 2,6%, mentre i decessi sono aumentati del 2,3%. Per quanto riguarda la provincia di Lodi sono 533 gli incidenti, 6 i morti, 851 i feriti. È nella città metropolitana di Milano che sono concentrati il 42,3% degli incidenti, il 40,7% dei feriti e il 22,5% dei morti rilevati nell'intera regione. Seguono poi Brescia, Varese e Monza-Brianza. Nel periodo 2010-2014 la riduzione più consistente del numero dei morti si è registrata a Cremona, seguita da Lodi, meno sei morti, pari al 50%. Fra i comportamenti errati, la guida distratta o l'andamento indeciso, il mancato rispetto delle regole di precedenza e la velocità troppo elevata. Gli utenti vulnerabili, pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotori rappresentano ancora le categorie più a rischio, con un numero totale di morti pari a 257. Una notizia di cronaca, ora un 37enne di San Fiorano è stato denunciato per furto e simulazione di reato. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha rubato pneumatici e cerchioni di un'auto parcheggiata vicino alla stazione di Codogno e successivamente, temendo di essere stato scoperto dall'auto del radiomobile di passaggio, ha chiamato il 112 denunciando il furto della propria auto. I carabinieri però lo avevano notato in precedenza sulla propria vettura e dopo un controllo lo hanno denunciato. Altro argomento ora, pellegrinaggio diocesano a Roma dall'8 all'11 settembre del prossimo anno in occasione dell'Anno Santo. A guidarlo sarà il Vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti. C'è una caratteristica nuova in questo pellegrinaggio dell'Anno Santo, che sarà quello del cammino a piedi da Castel Sant'Angelo alla Porta Santa di San Pietro. Questo è già segnato e il motivo è chiarissimo, vogliono dare una testimonianza ai romani e a tutti i pellegrini del mondo, i turisti, di come si può camminare in mezzo alla gente, in mezzo alla vita, in un momento di preghiera e anche di silenzio. Quindi è già segnato questo Castel Sant'Angelo e Porta Santa. Credo che organizzeranno, daranno i momenti di preghiera. Lì a Castel Sant'Angelo sarà organizzato come punto di accoglienza e di partenza diretto. Poi per quanto riguarda il programma, noi teniamo, siccome è richiesto, la visita alle quattro grandi basiliche, vorremmo inserire all'interno i musei vaticani, visto che cominciamo giovedì, e se è possibile quel trenino che adesso parte da Castel Gandolfo arriva fino ai giardini vaticani. Vediamo se ci stiamo dentro anche con i tempi. Fino a quando sono aperte le iscrizioni? Le iscrizioni abbiamo pensato di chiuderle 40 giorni prima. Noi prevediamo grosso modo come l'altra volta 200 pellegrini. Ecco, non abbiamo ancora tutti i luoghi precisi, però ecco, si chiude di solito 40 giorni prima della partenza. Verrà il Vescovo e questa è la caratteristica e avremo due cose importanti. Il sabato faremo l'udienza col Papa, perché lui ha pensato, oltre al mercoledì, fa delle udienze al sabato. Questa è una data, questo sabato di settembre, una data che lui ha assegnato. La seconda cosa è andremo direttamente, domenica mattina all'Angelus. È tutto per quanto riguarda questo nostro spazio dedicato all'informazione. Grazie a voi gentili amici per averci seguito. Ci vediamo domani.